Mentre il ministro Lorenzo Fioramonti continua a ripetere che sta lavorando intensamente per mettere insieme altri soldi destinati alla scuola, la Commissione Bilancio del Senato procede nell'esame della legge di stabilità per il 2020. Le disposizioni che riguardano il sistema scolastico stanno quasi tutte nell'articolo 28 e per il momento non fanno presagire nulla di buono. Le risorse sono limitatissime. 30 milioni di euro per la retribuzione accessoria dei dirigenti scolastici, 11 per le attività di formazione dei docenti specializzati per l'inclusione, 2 per le iniziative didattiche di innovazione digitale. Per i contratti pubblici ci sono circa 3 miliardi che basteranno appena per un aumento lordo di 60-65 euro pro capite. Per il resto non ci sarà nulla e anche gli emendamenti finora presentati prevedono davvero poco. Può darsi che all'ultimo momento verrà stanziato un fondo per garantire un po' di posti di potenziamento anche per la scuola dell'infanzia. Si parla di 2.000 posti, non di più. Ci sono però emendamenti a costo zero e di dubbia utilità che potrebbero piacere all'opinione pubblica. Per esempio ci sono una proposta per introdurre due ore di educazione ambientale in tutte le scuole e una per inserire nei programmi anche un'ora di educazione alimentare allo scopo, dice la relazione illustrativa della legge, di combattere l'obesità infantile. In compenso non si parla più di tempo pieno al Sud, norma fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle lo scorso anno e che non viene più rifinanziata per il 2020, con il risultato che non ci saranno altri posti aggiuntivi di tempo pieno oltre a quelli istituiti lo scorso anno. E non si parla neanche della cancellazione delle classi pollaio. Sul tema va segnalato però un emendamento presentato, fra gli altri, dalla pentastellata Bianca Granato per istituire un fondo sperimentale per il contrasto al sovraffollamento nelle prime classi degli istituti tecnici e professionali. Per intanto la Commissione Cultura del Senato ha già espresso parere favorevole, senza particolari osservazioni, sulla tabella 7, quella che contiene l'elenco analitico dei fondi allocati sui capitoli di spesa del Ministero dell'Istruzione. È vero che la Commissione ha votato un ordine del giorno con il quale impegna il Governo a reperire altri fondi per il contratto scuola, ma è bene sapere che gli ordini del giorno, nella maggior parte dei casi, valgono meno della carta sulla quale sono scritti. Insomma, a conti fatti una legge di bilancio in cui la scuola non è certamente al primo posto, ma sulla quale almeno per ora le forze politiche sembrano concordare. Sul tema ovviamente noi continueremo a tenervi informati perché il dibattito sulla legge di bilancio è in pieno svolgimento, quindi continuate a seguirci su questo canale, ma anche sul nostro portale www.tecnica della scuola, leggeteci e soprattutto scriveteci. Grazie a tutti.